Durante la giornata di ieri FuseGamer e tutti quelli di Elites hanno svolto un evento incontrando i loro fan, scattando foto con loro e conversando tranquillamente. Se non fosse che a quest'evento, per motivi non troppo chiari, è arrivato Donali, influencer noto per le sobravate molto casiniste, spinte, che a quanto pare durante l'evento ha avuto un litigio con FuseGamer stesso, fino poi successivamente a litigare con un ragazzo del pubblico che evidentemente ha detto qualcosa che non doveva dire, e a creare una vera aggressione, anche se questo è soltanto una cosa che dicono, ma non si vede bene nel video. Vi lascio quindi i filmati, che ahimè in questo caso sono presi da TikTok, quindi si vedono delle scritte sopra, chiedo scusa per questo, ma purtroppo non ci posso fare nulla. Fatemi poi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. No, no, dimmi come scegliere però. Come fai? Chi vuole giocare? Gioca! Dopo un po' che si stava? Ehi, dopo un po' che si stava? Non gioca no, bravo! Non vai da gioco! Giovanni! Scegliere quello, sono venute le mamme, ce li abbia da fare ilrigo davanti alla gente. papà sta tornando sconsolato perché non va? dai 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 ci sono i bambini che non vuole dai chiudi da me è una foto? dai dai gente qui è una pietra Grazie.